Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre parlando ancora una volta di un fine settimana diciamo di violenza, due gli episodi ce li racconta Chiara Sadotti. La Piazza della Badia ha bisogno di essere tutelata e il comune deve capire che i locali ci sono e che deve fare in modo di aiutare i locali a svolgere le loro attività senza preoccuparsi di eventuali aggressori o aggressioni varie. Di certo farsi giustizia da soli non è il modo adeguato per fare le cose. E' per questo motivo che ha deciso di incontrarci in Piazza della Libertà di fronte al palazzo comunale il barista che nel fine settimana è stato aggredito nel tentativo di difendere un suo cliente. Il violento episodio si è consumato in Piazza della Badia, un angolo della città dove soprattutto nel fine settimana si concentra la movida cittadina. Tutto è iniziato attorno alle due quando senza un motivo apparente un uomo si è scagliato contro un cliente del locale dandogli un cazzotto. Io sono intervenuto ovviamente perché hanno iniziato anche a lanciare tavoli, sedie e tutto quello che trovavano. Ho separato i due gruppi, i suoi amici sono intervenuti subito per metterlo in sicurezza e io ho cercato di portare queste altre persone, sviarle dalla piazza in modo che la cosa finisca lì. Dopo però siccome non è la prima volta che capitano atteggiamenti del genere da parte di queste stesse persone ha chiamato la polizia. All'arrivo delle forze dell'ordine però il secondo round. Una volta che la pattuglia ha girato l'angolo questa persona visto che lo indicava la polizia mi è venuto addosso e questo è il risultato. Ho cinque punti sotto la palpebra sinistra e un dente scheggiato. La polizia ha fermato e portato in questura l'aggressore che è stato identificato e denunciato anche perché è trovato in possesso di un'arma da taglio. Non mi sento tutelato e sono sicuro che questa cosa che ho subito non avrà nessun effetto perché tra una settimana torneranno a dare fastidio alle persone. La piazza negli ultimi anni è stata spesso sfondo di episodi di violenza e criminalità come denunciato in più occasioni dei residenti ma il giovane imprenditore non ci sta ad incolpare i commercianti. Io sono qui per farmi anche portavoce delle migliaia di ragazzi che comunque vengono a rilassarsi il venerdì e il sabato sera. Una persona di quell'età lì deve poter andare dove vuole, mettersi a sedere e avere tutta la libertà di poter bere in santa pace senza che nessuno gli vada a dire che non può farlo o senza che nessuno vada lì e gli dia un cazzotto così senza motivo. Hai paura di riaprire il locale? Sinceramente sì. Un via vai sospetto in un appartamento, questo ha fatto poi intervenire con un blitz i carabinieri e alla fine in manette per spaccio è finito un sessantenne. Ad insospettire i carabinieri il continuo via vai dalla sua abitazione è così, dopo un servizio di appostamento ed osservazione è stato colto in flagrante mentre cedeva dosi di stupefacenti. In manette a Foiano è finito un sessantenne già noto alle forze dell'ordine. Il blitz è nella notte tra sabato e domenica quando i militari dopo ore di osservazione sono entrati nell'abitazione. Hanno così trovato e posto sotto sequestro 50 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 75 grammi, oltre ad un contenitore e 4 involucri contenenti la stessa sostanza, 120 bustine di plastica trasparenti solitamente utilizzate per il confezionamento dello stupefacente e un taglierino per la suddivisione della droga. A Castiglione Fiorentino invece a finire nei guai un 22enne per frodo informatica. I militari, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno accertato che quest'ultima, dopo essere stata attratta in inganno da un annuncio su una piattaforma social, aveva preso accordi col giovane pattuendo il prezzo di 550 euro per l'acquisto di un telefono smartphone. La somma di denaro era stata accreditata sui vari IVAN forniti dal presunto venditore, ma la merce non era mai stata spedita ed il giovane era diventato improvvisamente irreperibile su tutti i social network. Anelli, collane e soldi era la refurtiva di due truffe messe a segno ai danni di altre tanti anziani. In appena 15 giorni gli agenti della polizia stradale di Battifolle sono riusciti ad intercettare e fermare gli autori appunto dei raggiri. Anelli, bracciali, spille, collane ed antiche monete, frutto di due diverse truffe consumate ad Aosta e a Pavia, ai danni di un'anziana signora e una coppia di coniugi di 87 ed 80 anni. A recuperare i monili in oro e il denaro contante la polizia di stato di Arezzo, che in entrambi i casi ha intercettato i truffatori lungo l'autostrada del Sole. Sono stati così denunciati due uomini e recuperato il bottino dalla valore di circa 30.000 euro che è stato restituito alle insieme vittime. Si tratta purtroppo di un fenomeno sempre più diffuso, colpi messi a segno seguendo un collaudato stratagemma. Una telefonata con la minaccia che i figli degli anziani sarebbero finiti in galera se non fosse stata pagata una certa somma di denaro ad una persona che si sarebbe presentata di lì a poco per riscuoterla. E il danno, quello vero, spiega la questura in una nota, non è solamente legato alla cifra sborsata ma si annida poi nelle menti delle vittime, che non solo vengono derubate dai ricordi di una vita ma finiscono per perdere la stima in se stesse. La Polizia di Stato con la sua campagna Esserci sempre ribadisce dunque che nessuno è lasciato mai solo e che le istituzioni sono sempre pronte ad aiutare chi, soprattutto i più fragili, abbia bisogno anche di un semplice consiglio su come comportarsi di fronte a soggetti sconosciuti che fanno strane richieste di persona o per telefono. Questo semplicemente chiamando il numero di emergenza 112 o per i più social attraverso il sito www.poliziadistato.it dove è pubblicato un vero e proprio vademecum. Aveva venduto un cellulare online ma dopo aver ricevuto il pagamento, 550 euro, era scomparso. A rintracciarlo sono stati i carabinieri di Castiglion Fiorentino, protagonista della vicenda, un ragazzo di 22 anni castiglionese già conosciuto alle forze dell'ordine. Il 22enne è stato denunciato. Incidente questa mattina nei pressi della rotonda in fondo a Viale Margherita, un ciclista, in seguito all'urto con un'auto, è finito a terra riportando varie ferite sul posto. I sanitari del 118, un'ambulanza della misericordia di Arezzo, il ciclista è stato trasportato all'ospedale San Donato. E siamo alla cronaca giudiziaria. Torniamo a parlare del processo che, o anche il comitato, le vittime di podere rota, si costituirà parte civile nell'udienza preliminare che è in calendario per il prossimo 10 di maggio al Tribunale di Firenze. Il procedimento è il punto d'approdo dell'inchiesta della DDA di Firenze per traffico illecito di rifiuti relativo allo smaltimento di scarti tossici delle concerie, il cheo appunto, e di altri scarti industriali. Una vicenda che ha preso le mosse proprio dalla Rettino a Bucine. Si trova infatti l'impianto Le Rosa di smaltimento rifiuti che avrebbe, secondo gli inquirenti, accolto gli scarti tossici e che poi però ha coinvolto l'intera regione. Nelle scorse settimane anche il comune di Bucine aveva ufficializzato la decisione di costituirsi parte civile. Siamo andati con le nostre telecamere all'interno delle case popolari di via degli accolti. Il degrado è davvero sotto gli occhi di tutti. A denunciare quanto sta accadendo sono stati i consiglieri comunali del Partito Democratico. Siamo nel complesso delle case popolari edilizia ERP, insomma come si dice in gergo tecnico, di via degli accolti ad Arizzo. Alle sue spalle c'è una zona transennata perché c'è stato, dobbiamo dire, l'ennesimo crollo, cioè si sono dispersi insomma dei calcinacci. Sì, nei giorni scorsi c'è stato un nuovo crollo di parti di intonaco ammalorato che da anni ormai sono frequenti in questa struttura delle case popolari. Case popolari che ormai hanno oltre 40 anni e che non vengono fatti interventi di manutenzione da molti anni. Ecco, noi siamo stati anche all'interno, c'è un problema di muffa, ci sono degli oblo che non sono mai stati nella parte delle scale, mai stati rimessi a posto. Cosa chiedete all'amministrazione comunale? A quello che chiediamo innanzitutto sarebbe bello capire se il sindaco Ghinelli o l'assessore Manneschi vivrebbero nelle condizioni in cui vivono questi cittadini. E poi chiediamo all'amministrazione, visto che ha risorse a disposizione proprie, che metta queste risorse a disposizione di Arezzo Casa per effettuare interventi di manutenzione straordinaria a questo edificio e non solo a questo edificio ma anche altri edifici di edilizia popolare che sono in condizioni simili a questo di Via degli Accolti. Porterete tutto questo anche nell'Assise, quindi in Consiglio Comunale? Sì, chiaramente presenteremo un'interrogazione all'assessore Manneschi per capire quali sono le intenzioni dell'amministrazione per mettere nelle condizioni i cittadini delle case popolari di vivere in condizioni decenti. E siamo alla pagina della cultura, una cena di ringraziamento per il Carnevale dei figli di Bocco e una premiazione per il sedicesimo concorso fotografico dedicato a Piero Franchini. Il Carnevale dei figli di Bocco numero 27 del 2024 ci ha dato una grande soddisfazione. Tante persone sono venute a vederlo da tutte le parti d'Italia e anche oltre. Quindi noi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Dobbiamo ringraziare tutte queste persone che sono qui, che stasera sono a cenare però durante il Carnevale non hanno lavorato tanto, quindi ci supportano molto. Quest'anno abbiamo fatto la seconda edizione del concorso fotografico intitolata a Piero Franchini nostro compaesano, mio amico anche personale, che purtroppo ci ha lasciato nel momento poi che doveva fare, doveva proclamare la foto vincente del concorso fotografico, proprio in quel momento lì. La cosa è andata avanti e noi abbiamo deciso di intitolare questo concorso proprio a Piero Franchini. Fabio Tulli, eccolo qua, Fabio Tulli, con i minuti, da Contassiere, che ha ritratto Andalusia. Ringraziamo lui e la sua figlia e gli altri che hanno proseguito questa nostra impegna. Quindi che devo dire? Devo dire solamente che Castiglion-Fibocchi è un paese piccolo, un paese piccolo, solamente 2.000 abitanti. Noi siamo riusciti a portare avanti una manifestazione a livello molto grande, molto più grande di noi. Questo ci dà grande soddisfatto e ci impegna anche per il proseguo, perché tutte le persone che vengono da tutte le parti ci fanno i complimenti in continuazione, quindi non ci possiamo fermare. Dobbiamo andare avanti. Abbiamo bisogno del ricambio generazionale, perché ormai ci sono delle persone molto antempate, quindi bisogna che anche i giovani sentano qualcosa su questa manifestazione, sentono che può dare a loro, al paese e a tutti qualcosa di positivo. Quindi ringrazio, ringrazio anche voi che ci venite qui a intervistare, quindi grazie a tutti. Di nuovo. Ci spostiamo adesso invece in Valdichiana, dove nello scorso fine settimana è stata rievocata la battaglia di Scannagallo. La campagna rimane coperta di uccisi, di feriti, di sangue, di insegne e di armi, di morti, poco meno di 5.000 che a Franco Senesi non è perdonato, sono con grandissima crudeltà trucidati. A distanza di 470 anni la battaglia di Scannagallo è stata rievocata in Valdichiana, tra Pozzo della Chiana, Foiano e Marciano. L'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Scannagallo ha ricostruito gli eventi avvenuti nel 1554 in Valdichiana, culminati nel successo dell'esercito fiorentino di Cosimo I de' Medici, che, sconfitto l'esercito senese, gettò le basi per la costruzione del Gran Ducato di Toscana e per il periodo di splendore umanistico, culturale, artistico e architettonico del Rinascimento. L'assalto al castello di Marciano è stato l'episodio rievocato nella mattinata del 5 di maggio. Il centro storico del paese della Valdichiana è tornato indietro nei secoli con la composizione degli schieramenti e il racconto dei fatti militari con la ritirata franco-senese. Torniamo a capo uomini, la giornata è nostra, per giovezza, per il Ducato, Valdi! Ultimo atto di questo fine settimana di iniziative, la presentazione del libro Cosimo I de' Medici alla presenza del presidente della Regione Toscana, autore del libro. Se n'è andato all'età di 75 anni dopo una lunga malattia Massimo Casini, padre della sindaca di Lucignano, Roberta. Per molti anni anima è presidente della maggiorata lucignanese. I funerali si terranno domani, martedì 7 maggio alle 15, nella chiesa della collegiata del paese. A Roberta e ovviamente a tutti i familiari, le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione. Siamo allo sport, domani il primo incontro per i play-off. L'Arezzo ha soltanto una possibilità contro la Juve Next Gen, ovvero vincere. Servirà una gestione oculata, ha detto in conferenza stampa Mister Indiani e servirà anche una prestazione senza errori, senza sbavature, che potrebbero rivelarsi fatali. Andare sotto nel punteggio costringerebbe L'Arezzo a esasperare la fase offensiva, lasciando spazi alle micidiali ripartenze avversarie. Viceversa, trovare il gol per primi sposterebbe il peso di inseguire la qualificazione dall'altra parte. E poi, ha detto sempre Indiani, c'è la terza opzione, quella di una partita in equilibrio fino agli ultimi 30 minuti, in cui la maggiore esperienza e malizia degli Amaranto, contrapposta alla gioventù della Juventus, assumerebbe una valenza ancora più significativa. Vedremo insomma come andrà a finire. Già lo sappiamo invece come è finita l'ultima trasferta dell'Arezzo, in questo caso femminile, quindi delle ragazze dell'ACF. Una vittoria è stata riportata a casa contro il Tavagnacco. Sappiamo già che insomma è già stata conquistata e festeggiata la permanenza nel campionato di Serie B. In rete, Razzolini, Diaz, Licco e Gnisci è infatti un poker, quello carato dall'Arezzo calcio femminile, che sul campo del Tavagnacco ha battuto le padrone di casa per 4-0. Nel secondo tempo probabilmente abbiamo cercato di più di giocare in ampiezza, per andare ad attaccare la profondità, però devo dire che la squadra ha fatto una bellissima partita dal primo minuto di gioco, e quindi sono molto contenta delle ragazze, credo sia stata la nostra miglior partita da inizio di quando ci sono, e quindi faccio i complimenti alle ragazze. È importante secondo me per tutte le squadre, principalmente, perché primavera si deve formare i giovani per la prima squadra, e secondo me noi ci siamo riusciti con questo intento, in questa società, e niente, devo fare gli auguri e anche complimenti a un'altra entrata, che ha esordito, Penny Torres, 2007, ed è entrata benissimo, quindi sono contentissima di lei, le altre ragazze che sono entrate comunque giovani, ormai sono collaudate con questa squadra, ma devo fare anche i complimenti alle ragazze, tra virgolette, più veterane, perché hanno accolto queste ragazze giovani in maniera splendida, quindi complimenti a tutto il gruppo. L'appuntamento adesso è per domenica prossima al Comunale di Arezzo, quando arriverà la rivelazione del campionato, Cesena ancora in lotta per un posto al sole in Serie A. Cercherà di fare punti possibili, perché come avevo detto in precedenza, la salvezza è stata raggiunta, ora l'obiettivo è cercare di fare altri sei punti. E parlando proprio di Arezzo Calcio Femminile, non cambiate canale, perché subito dopo il nostro telegiornale, andrà in onda la puntata consueta del lunedì, di Fattore D, storie di donne, e questa sera ospite nel salotto di Chiara Sadotti, appunto la capitana dell'Arezzo Calcio Femminile, Razzolini. Ed infine parliamo di atletica, un oro, un argento e un bronzo, per l'Alga Atletica Arezzo, nella prima prova regionale del campionato di società allievi. La manifestazione di Campi Bisenzio ha visto confrontarsi atleti e atlete del biegno 2007-2008 di tutta la Toscana. Una menzione particolare per Filippo Guiducci, che è salito sul podio in entrambe le gare a cui appunto ha partecipato, con il primo posto nel salto nel lungo, con 6.68 metri, e il terzo posto nel salto triplo, con 13.30 metri. Poi l'ultima pedaglia è arrivata con Lorenza De Silva, che si è piazzata seconda nei 200 piani, con 26.21 secondi, e quinta nei 100 piani, con 12.97 secondi. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio allora a fattore D, la nostra trasmissione dedicata appunto alle storie delle donne. Questa sera il capitano Amaranto dell'Arezzo Calcio Femminile è l'ospite appunto di Chiara Sadotti. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie per la visione!